oggi sono quattro giorni sono quattro giorni che sono nati questi bellissimi pastori ancora non sappiamo i sessi ma da come abbiamo potuto trovare quattro maschi sicuramente ci sono forse ancora di più però adesso non li voglio disturbare a parte che la mamma è molto gelosa quindi pure la mamma è una strada bella strada bello prima prima che stanno iniziando a mostrare questa è una strada bella mostrando i salsi quello la che sta poppando quello la che sta poppando questo è un po' bassi se no se no troppo giallo ci rimane Grazie.